Era in grado di muovere fiumi di droga, cocaina, eroina, hashish e marijuana la banda di narcotrafficanti individuata dalla Guardia di Finanza di Padova coordinata dalla Procura Distrettuale di Venezia. Un'indagine complessa e vecchia maniera con migliaia di chilometri di pedinamenti che ha portato in queste ore i cento militari coinvolti all'esecuzione di 19 arresti, 14 in carcere, 5 domiciliari e a 65 denunce eseguite tra Veneto, Germania e Albania. La realizzazione operava principalmente in Veneto, le province più interessate sono Treviso e Venezia con due depositi che abbiamo individuato ad Eraclea e a Musile di Piave. La cocaina ovviamente di provenienza dal Sud America entrava in Europa dall'Olanda attraverso la Germania, mentre l'eroina, l'hashish e la marijuana che sono le altre sostanze che sono state sottoposte a sequestro durante l'indagine provenivano principalmente dall'Albania. Un'indagine è partita nel gennaio 2020 con l'arresto a Padova di due albanesi, un uomo e una donna, che viaggiavano con due chili di ruina nascosti nel doppio fondo di un'auto. Proprio nei doppi fondi, la chiave dell'indagine, qui venivano cerate oltre la droga telefoni cellulari albanesi dotati di Matrix, uno speciale sistema di messaggistica istantanea criptato. In Matrix i trafficanti avevano creato una stanza a cui si accedeva tramite un codice su invito dove venivano gestiti i movimenti della droga e l'invio dei soldi. Al vartice della banda un cittadino albanese residente a Ponte di Piave è arrestato in Albania con la moglie e il figlio. In poco più di due anni la guardia di finanza di Padova, che si è avvalsa anche della collaborazione dello Shiko, ha sequestrato più di quattro quintali di droga, cocaina, eroina, hashish e marijuana per un valore di 32 milioni di euro. Una droga pericolosissima perché spesso al cliente finale arrivava molto tagliata. Ovviamente più viene tagliata e più ovviamente è potenzialmente pericolosa, quindi naturalmente per cercare di trarre maggiori profitti questa droga veniva tagliata tre, quattro volte, queste sono le evidenze insomma che emergono dalle indagini. Durante le indagini sono stati arrestati 17 corrieri, sequestrati 7 immobili, auto di pregio e alcune società, tra cui un'azienda svizzera riconducibile alla moglie del boss specializzata nella produzione e coltivazione di canapa.